Ciao people, io sono Albi e bentornati qui su Battlefield 4 in un video un po' diverso dal solito Volevo sottoporvi un'idea di una serie, che non so ancora se sarà una serie o semplicemente qualche episodio ogni tanto Adesso vedremo, in collaborazione con voi people Mi lascerete sottoscritti nei commenti una sfida che dovrò affrontare nell'episodio successivo E con sfida intendo qualcosa di completamente diverso da quello che potrete aspettarvi Mo vi spiego Anziché proporre i soliti setup difficili, tipo usa solo la pistola, devi fare le kill solo col C4 Usa solo gli RNV perché così non vedi se ci sono nemici tra le dita dei tuoi piedi Volevo fare qualcosa di più originale La sfida dovrà, o potrà, essere esterna al gioco E con esterna al gioco intendo che non dovranno essere cose legate estremamente al setup Ma potranno essere condizioni in cui dovrò fare la partita Vi faccio qualche esempio per farvi capire più meglio Voce da people Ciao Albi Mi piacerebbe che nel prossimo episodio provassi a fare un deathmatch senza poter usare il tasto A Cosa vuol dire questo? Che dovrò farmi una partita intera senza poter usare il buzz famosissimo Completo Quindi potrò solo andare avanti con la W e tornare indietro con la S e girarmi a destra con la D Oppure altro esempio Ciao Albi potresti provare a fare una partita senza utilizzare la barra spaziatrice Oppure ancora Ciao Albi potresti andare nell'opzione invertire il tasto A col tasto D Quindi fare una partita intera utilizzando questa difficoltà E secondo me ragazzi ci sarà da divertirsi per tutti quanti Uno per voi che nei commenti tirerete fuori scommetto quello che volete Il meglio e il simpatia E basta Per la sfida che vi inventirete E per me perché vi metterò in gioco e proverò a fare una partita con i vostri suggerimenti Quindi ragazzi sotto con la fantasia Iniziate a lasciare qui sotto questo video qualche commento con le vostre prime proposte Grazie per avermi seguito fino a qui Anche per oggi è tutto L'appuntamento come sempre a ZUSD Bella ragazzi Alla prossima Cosa ci aspetta quel big C4 secondo me Beh siamo in due Vai avanti tu Vai shotted Vado io Grazie E granate Oh 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 Che cazzo ti succede? Ok preso Foldiamo la bandiera No davanti davanti dietro sulla bandiera Sulla bandiera Due due Sono in due Occhio Vai ti sono spawnato dietro io Vai 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 Andata andata Foldiamo la bandiera Sì vieni 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 giù vieni giù Che sono da solo Aspetta aspetta sto malissimo No no anch'io Anch'io scendi scendi Vai sono pronto Ok Occhio che ce n'ha altri Ce n'ha altri Hanno un cazzo No ho finito i colpi Vai vieni 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 C'hanno un cazzo di segnalatore C'hanno un cazzo di segnalatore Hanno ucciso uno di noi ha detto